Di più nazionali e locali, possiamo iniziare la nostra assemblea, vorrei subito precisare una cosa per chi non ci conosce, noi siamo un gruppo di lavoratori di AMIU, siamo chiamati ULA, ci siamo messi in testa una strana idea, quella di chiedere ai partiti e ai sindacati di ritornare a fare il loro lavoro, cioè ai sindacati di difendere i lavoratori e ai partiti che governano città, per ora città, poi speriamo di andare più in alto, di difendere quelle aziende pubbliche che nel tempo hanno dato lavoro e servizi a parità di condizioni, a parità di soldi, questo purtroppo negli ultimi tempi non avviene, abbiamo visto la situazione di EMT che stanno appaltando a più non posso le linee culinarie, abbiamo visto ATP che è un'operazione del sindaco Doria, quello che sta facendo, l'operazione che tenta disperatamente di fare l'operazione di vendita, o meglio io la chiamo operazione di regalo, di anno a dire, sta facendo fallire la zona dei trasporti pubblici provinciali. Noi ci siamo messi in testa che non esiste solo l'opzione IRE, esistono delle altre opzioni per salvare questa azienda e per far questo abbiamo deciso di aprire dei confronti con le forze politiche che per prima cosa hanno votato no in consiglio comunale. Vorrei sottolineare che noi non siamo apolitici, facciamo politica, chiaramente non facciamo partitica, nel senso che ognuno di noi ha delle sue idee, nel segreto delle urna della cabina elettorale esprimerà il proprio voto, non per questo ci si deve etichettare, anche se la cosa non mi scandalizza, per appartenenti a questo. Noi siamo aperti al confronto con tutti, abbiamo ritenuto e ringrazio pubblicamente il sindaco di Livorno che coraggiosamente ha tentato un'operazione che probabilmente gli sarà costata parecchio anche da parte della città, soprattutto del sindacato che non mi risulta che sia stato tanto felice, soprattutto del PD, contrarissimo all'atto che è stato fatto a Livorno di salvare l'AMSA da un sicuro fallimento, andando al concordato preventivo e non cedendo l'azienda ad aziende, scusate il visticcio di parole, decotte come IRE, perché qualcuno potrebbe dire che IRE è un'azienda sana, ci vedremo fra 4 o 5 anni per vedere com'è sana questa azienda, piena di debiti, annuli serve per continuare ad aumentare il suo portafoglio, andare dalle banche e dire guarda che bello, c'è un'altra azienda che ha questo valore e poi farne ancora un ulteriore prestito. Questo noi non lo vogliamo perché sappiamo che poi quando si inizierà a parlare di risparmio e di tagli saranno sempre come è sempre avvenuto sulla bella dei lavoratori, non siamo per la macelleria sociale, siamo perché questa azienda possa continuare a lavorare, noi siamo per la vera salvezza di AMU, mentre oggi è dimostrato che AMU sta servendo a qualcuno per un baratto politico-affaristico, noi questo non lo vogliamo, ci dispiace che alcuni sindacati, o meglio un sindacato si sia schierato completamente a favore, ma si vede che sull'attore c'erano dei lavoratori e il centro-sinistra, il sindacato ha preferito puntare giù i lavoratori e salvare il centro-sinistra. Questo non è il ruolo che noi pensiamo che può fare il sindacato. Io lascio volentieri e lo ringrazio di nuovo, so che è partito di corsa, si è fatto tutta la strada di corsa fortunatamente, è arrivato al sindaco di Livorno che ci illustrerà la posizione. Chiaramente poi daremo la parola al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Boccaccio, che ci illustrerà la posizione e eventualmente se ne ha voglia, ci illustrerà con quale posizione sulle aziende pubbliche il Movimento 5 Stelle si presenterà alle elezioni. Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie veramente di aver avuto fiducia in noi nell'aver chiesto un nostro intervento. Io devo fare una doverosa premessa prima di iniziare questa serata, come è stato detto siamo venuti in fretta e in furia dopo il consiglio comunale che abbiamo avuto questo pomeriggio. Io non sono venuto qui a cercare di perolare una causa in particolar modo, io vorrei ascoltare i vostri quesiti, le vostre domande e provare ad aiutarvi a snocciolare un ragionamento con voi. Non sono una persona non niscente, sono venuto con il mio assessore che è la persona che maggiormente affronta con me questo tipo di problemi, ho portato anche il Presidente del Consiglio Comunale che è quello che ha affrontato gran parte dei problemi che sono stati descritti da chi mi ha preceduto. Però, come vi dicevo, io non ho avuto il tempo di studiare in dettaglio, alcune cose naturalmente le ho visionate, mi sono confrontato sia con il Consigliere Comunale di Genova che con la Consigliera Regionale, però credo che sia importante capire quali sono i vostri primori, qual è semplicemente la vostra speranza nell'ambito di quello che può essere una progettualità legata al mantenimento pubblico con l'ingresso del privato, perché si aprono ovviamente scenari che sono molto differenti tra di loro. Quindi, come è mia consuetudine, io non sono a prioristicamente per una posizione, se non nell'ambito di un contesto con le condizioni sono in contorno che ritengo debbano essere messe. Premesso che tendenzialmente noi abbiamo sempre mantenuto l'acceleratore sul mantenimento dei servizi essenziali totalmente pubblici e su questo abbiamo fatto delle battaglie anche molto importanti. Però ci sono da capire tutta una serie di parametri che io ho bisogno con voi di capire. Quindi mi piacerebbe più che fare un intervento e illustrare qual è la posizione, mi piacerebbe capire, attraverso anche le vostre domande, come poter in qualche modo provare a strutturare poi una serie di risposte. Quindi lascerei la parola proprio a voi. Luca Artusi Allora, abbiamo ritenuto come gruppo questo incontro decisamente importante perché i timori dei lavoratori sono seri, sono importanti, ne vengono da distante. Spesso abbiamo sentito parlare del modello Livorno. Abbiamo sentito parlare, a volte anche in maniera un po' ironica, di questa ricetta magica, di questa banchetta magica. Però è un modello che conosciamo poco, un modello che conosciamo poco, se ne sentite in tutte le maniere, in tutte le salse, qualche buona in maniera trionfalistica, qualche buona invece anche catastrofica, è inutile dirci. Si è sentito parlare di assunzioni, invece si è sentito parlare di licenziamenti. Noi volevamo un attimo conoscere, ovvio, con delle diversità, le due aziende diverse, in due territori diversi. Volevamo un attimo conoscere qual è stato il percorso che ha portato l'azienda di Livorno a essere insannata in tre anni su un, mi sembra un piano, un progetto di 5, che prevedeva un recupero dei debiti in 5 anni, con le ricadute sui lavoratori, sui cittadini, sulla città, perché è inutile. Questo è un servizio pubblico, lo riteniamo assolutamente prioritario che debba rimanere in mano al Consiglio Comunale, quindi alla parte pubblica, diventi motivo di profitto, ma ne volevamo conoscere nei dettagli. Quindi, Filippo, da dove sei partito e dopo tre anni dove sei arrivato? Allora, questa è una domanda molto interessante. La situazione di Livorno ve la descrivo abbastanza sinteticamente così. Noi abbiamo ereditato un'azienda con un indebitamento veramente molto molto alto. È tipico delle partecipate avere avuto in qualche modo gran parte di quello che è una inefficienza della classe politica che ha spalmato sulle proprie partecipate l'indebitamento medio. Questo a causa di tutta una serie di leggi, norme che nel corso degli anni sono andati avanti, che hanno imposto invece i bilanci comunali di essere in ordine, tutto il resto è stato spalmato sulle 8 mila partecipate che i comuni hanno. Nella fattispecie Livorno si è trovata nelle condizioni di avere, al momento in cui abbiamo fatto il primo bilancio che noi abbiamo definito bilancio verità, un indebitamento di oltre 42 milioni di euro. Ora, la situazione con un'azienda con oltre 300 dipendenti e molta esternalizzazione dei servizi essenziali ci ha visto ovviamente affrontare questo come un problema molto grave. Perché? Perché si sta parlando ovviamente di un...